12 piloti in attesa ancora e a lungo 71 ora li aspettiamo qui davanti la nostra portazione per identificarli 12 piloti in attesa Carbonera, Mancina, Contadini, questo è il terabeto di piloti al comando alle spade, grano d'Angelo Greco, Guccia, Egli, Montevani, Guadagnino e Cristini Luca, 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 Luca 500, cupola non è riuscito e sempre Michael Carbonera al comando con Mancina, Luca e Contaglina a ruota Maestro, la Carbonella ha il comando però abbiamo visto che Mancina e Luca è passato a confidere qui abbiamo Mancina e Luca, Carbonella e Contaglina a ruota e grazie a tutti i tuoi campionati e facendo scoprire Mancina e Contaglina ora è a mano attuale la distanza di allungare cercandosi forse fra i suoi biletti avversari per le bandi di sicurezza per poter arrivare in volta gara sempre compresa è sempre Mancina e Luca che lo vediamo entrare nella curva delle resine di potenza adesso è con il carbonero il suo campo di al suo campo di alle suoi spalle tra i suoi campionati e tra i suoi campionati e i suoi campionati e i suoi campionati le loghe contro il rinforzo e il suo campo di e il suo campo di Mancina e Carbonella e il suo campo di si l'aprema e il suo campo di e il suo campo di e il suo campo di un'aprema giro il corso di vero e perde leggermente il contatto Luca con Pedini alle sue spalle di con Pedini c'è uno di suspeito di piloti in lotta per la quarta quinta in flaggatoria ecco Mancina e Michael Carbonera Bacchia Capoeira, Tartuzano, Lio Pagliari, Tartuzano, 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 Mancina di Luca Giro dopo giro si è creato una nuova di uguale pulitette con in mezzo abbiamo Luca con Pedini che deve guardarsi anche alle spalle e infanzo una sostituzione di guadagnia per la quinta in mezzo le portarà in giro e infanzo ultimi giro la serie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.